Una manifestazione importante è quella di 100 serate perché i piatti in gara sono fatti esclusivamente con prodotti del territorio. Ecco, mi stimoli, questo mi piace moltissimo, bravi a dire i prodotti del territorio. Il territorio è inteso non soltanto sul mangiare, ma noi cuochi siamo i veicoli del turismo. Il prodotto tipico, parlare di tipicità di un luogo, di un posto, delle tradizioni, sarà questo sicuramente che mette in evidenza il cuoco e il ristoratore e l'amore per la propria terra e per la propria cucina, senz'altro. E grazie a voi con queste iniziative che se tutti i miei colleghi capiscono la vostra iniziativa sicuramente non domani mattina, ma forse dopo domani avranno anche un bel ritorno.